La passione con cui crea nuove macchine o crea nuovi sistemi è per questo, dare sempre più qualità sul mercato. Io mi chiamo Marchetti Gianluca, sono amministratore unico della ditta MT. In 1996 abbiamo iniziato a produrre i primi moduli motorizzati che oggi sono il nostro core business. L'MT è un'azienda che punta costantemente all'innovazione sia del parco macchine che dei propri prodotti. In più c'è la voglia di crescere, di creare e inventare sempre cose nuove che ci portano ad andare avanti. Lavorare con DMG Mori è un obiettivo molto importante per l'MT perché riteniamo che sia l'unica azienda oggi al mondo che ci permetta di applicare le nostre invenzioni, chiamiamole così. Perché DMG Mori vede nel futuro tutte le nuove tecnologie. È proprio un interscambio di informazioni e di idee fra le due aziende e questo è molto importante. All'interno della nostra produzione abbiamo tantissime macchine DMG Mori. Sono macchine molto affidabili che ci permettono di lavorare 24 ore al giorno senza molto molto operatore e per questo le abbiamo completate con tante automazioni intorno. Lavorare per loro è anche molto difficile perché loro sono molto meticolosi, cioè molto precisi su quello che richiedono. È difficile fare qualcosa di diverso da quello che si è deciso su carta inizialmente. Ci insegnano come dobbiamo lavorare per raggiungere soprattutto degli obiettivi migliori in meno tempo. Puntiamo molto sulla qualità perché riteniamo che la qualità vinca sempre su tutto. Quindi se io riesco a dare un prodotto qualitativamente buono sul mercato, sicuramente ho meno problemi e il mio nome si crescerà sempre di più. Secondo me ci ha sempre insegnato il gruppo DMG Mori con la costruzione delle loro macchine. Creare continuamente prodotti nuovi e innovativi mantenendo sempre una qualità estrema. Perché per il dottor Mori è fondamentale qualità, servizio e innovazione. Quindi prendendo spunto dai suoi pensieri anche noi l'abbiamo inserito all'interno dei nostri prodotti.